Le grisope sono fragili, verdognele, lunghe fino a 20 mm, con grandi ali trasparenti, segnate da numerose lenature e luci di occhi dorati. Le femmine depongono fino a 20 uova, fornite di un pedungolo sulla pagina numerosa delle foglie o sui rametti. La maggior parte delle fisopele emana un caratteristico odore di aglio, che si protegge dagli uccelli e da altri infettivoli. Dal luogo fuoriesce il cosiddetto leone degli apidi, una larva vorace, dalle mascelle a forma di denaglie, che durante il periodo di sviluppo può divorare fino a 500 apidi. La larva grigio-gialla, lunga dagli 6 o dagli 8 mm, ha tre paie di zambe idolaciche e piccola per rucche telose laterali. E' facile confonderla con larve di altre specie. Pertanto, conviene che la maggior parte delle volte evitiamo di effettuare trattamenti contro gli apidi, perché basta questo piccolo insetto a mantenere pulita la pianta.